Filmando la storia tra le nuvole, racconta la storia del nostro territorio. Con una formula nuova e coinvolgente, il sito archeologico di Ordonia e il relativo museo si trasformeranno per qualche giorno in sette cinematografici, in cui gli alunni, con le archeologhe e gli esperti di storia dell'associazione Mira, accompagnati dagli attori della piccola compagnia impertinente, viveranno un'esperienza di real time, compiendo un viaggio a ritroso nel tempo. Credo che sia un dovere di tutti raccontare ai bambini, che sono i più straordinari e stimatori, le persone più curiose che possano scoprire questo posto. Ora siamo nel cuore della città di Ordonia, siamo nel foro, alle mie spalle c'è la Basilica, il centro politico e amministrativo, ed immaginare che dei bambini lo possano vivere con i loro occhi e raccontarlo in un modo che anche per noi adulti è particolare e diverso, penso che sia un'occasione di arricchimento per noi e anche forse per loro. Filmando la storia tra le nuvole, ideato dall'Istituto Comprensivo Santa Chiara Pasco di Altamura, è vincitore del bando Cinema Scuola Lab del Ministero della Cultura e Ministero dell'Istruzione. Il progetto mette in relazione il cinema, il fumetto e i luoghi culturali del territorio, con l'obiettivo di costruire identità e consapevolezza. Il tutto in piena collaborazione con i giovanissimi studenti dello storico istituto scolastico. Amiamo molto costruire collegamenti, nessi, intrecci, nodi, sia tra le aree del sapere, e questo progetto ne è una dimostrazione, sia tra gli attori del processo di formazione. Formazione che per noi non coinvolge mai soltanto i bambini e i ragazzi della nostra scuola, ma coinvolge anche i genitori e automaticamente i cittadini. C'è come dire che la scuola è istituzione di promozione culturale e agisce su tutta la cittadinanza per mettere nuovamente al centro, speriamo, l'educazione nei processi proprio formativi e direi anche politici della città. Il gruppo di lavoro è costituito dall'Istituto Santa Chiara, dallo studio grafico Claudio Grenzi, editore, dall'Associazione Mira e dalla piccola compagnia impertinente. Per le riprese e la parte televisiva, la Eva Production. Il progetto gode del patrocinio della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio e del Comune di Ordona.